Angoli di campagna nel centro cittadino. A Bologna, quella degli orti urbani è una tradizione centenaria, ma ora sta attraversando un vero e proprio boom. Regolamentate dal comune negli anni 80, le aree ortive erano prima riservate ai soli pensionati, ma dal 2009 sono state aperte a tutti. Oggi sono una ventina per un totale di 2700 orti. Un nuovo stile di vita è anche un'importante risorsa in tempo di crisi, che attira sempre più famiglie e giovani, come Giuseppina e la sua amica Serena. Abbiamo vinto questo orto, siamo stati tra i pochi bolognesi che sono riusciti ad ottenere un orto. Oggi sono più di 2500 le domande in evase a Bologna degli orti urbani. Eravamo così contente, ne parlavamo con tutti, poi abbiamo conosciuto degli altri artisti, delle altre esperienze a Milano, a Roma soprattutto, e allora abbiamo detto ma se c'è tanto entusiasmo proviamo a vedere veramente di che si tratta. Così, anche grazie all'aiuto di amici esperti del web, Giuseppina e Serena sono riuscite a lanciare Graminiamap.it, la mappatura in crowd mapping degli orti bolognesi, dove per orto si intende anche un terrazzo o un semplice balcone. Tutto ciò che può contribuire alla nuova socialità multiculturale e transgenerazionale nata in città tra chi ama la terra e la biodiversità. Ciascuno ha il suo orto, però c'è qualcosa di più. E noi l'abbiamo anche scritto nel testo di presentazione di Graminia, dici che hai un orto, mappati, geolocalizzati, sarà bello vedere che siamo in tanti, perché uno più uno più uno fa molto di più che due tre. E Bologna vuole che la comunità ortiva diventi il suo biglietto da visita per Expo Milano 2015. Per questo ha riunito le storie di ecologia urbana e sostenibilità ambientale in una mostra fotografica a Sana, il Salone del Biologico e del Naturale, che si è tenuto in fiera. C'era anche Sara, che con i suoi undici anni non ancora compiuti, è probabilmente la più piccola ortista bolognese. Mi piace soprattutto guardare mio nonno che coltiva, così aprendo le tecniche, ma anche coltivare a me stessa. Questo qua è un pezzo di terreno, che è il mio orto personale, in cui coltivo un po' di tutto. I pomodori con le ricette che fa mia nonna, che le prepara e poi se le dà a casa. Vorrei tanto fare la contadina da grande, abitare in campagna, con mio padre, perché anche lui vorrebbe tanto abitare in campagna. E anche mio fratello. Alla cerimonia inaugurale di Sana, Sara è là sul palco con l'attivista ambientalista Vandana Shiva. Con lei ha piantato alcuni semi indiani poi travasati nell'area ortiva di Via Salgari, una delle più estese con i suoi 381 appezzamenti e una delle più multietniche con 20 assegnatari bengalesi e 16 marocchini. Vandana Shiva ha detto che gli orti di Bologna sono importanti perché mantengono la memoria, che non sta solo negli edifici e nei monumenti. Lì c'è tanta conoscenza che arriva dal passato, proprio come nell'università cittadina, la più antica del mondo. I orti sono le università della vita. E vorrei aggiungere che gli orti sono le università della vita.